Capitano Kenway? Hai qualcosa per me? I recenti spostamenti del Templare Woods Rogers Prende parte a un evento politico, quindi attento Si dice che il re Giorgio abbia chiamato Rogers a Londra Già, è scontento della situazione a Nassau Ancora troppi pirati in circolazione, a quanto si dice Dovrai travestirti per ingannare gli sgherri alla festa Potresti far visita a un diplomatico, Ruggero Ferrari È sulla nostra lista da un po' Intesi Puoi spedirla in Inghilterra per me? Sì, una nave parte domani Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol Come si può bere qualcosa? Salve Perdonate questo mio ritardo Sono Ruggero Ferraro Sì, signor Ferraro Nessun problema Eravate un corsario Perché disprezzate così tanto i marinai che vogliono solo farsi strada nel mondo? Voi non potete capire le mie ragioni, idiota Avete sprecato la vostra vita cercando di distruggere ogni conquista della civiltà Invece io capisco Ho visto l'osservatorio Conosco il suo potere Userete quel laggeggio per spiare, ricattare, sabotare Sì Ma per uno scopo più grande Portare giustizia Cancellare la menzogna in nome della verità Nessun uomo dovrebbe possedere quel potere Eppure lasciate che quel manigoldo di Roberts lo usi? No Glielo impedirò Se mi direte dove si trova Io lo fermerò Qui sull'orlo dell'abisso scopro in voi un amico E a Principe Canaglia che non siete altro Le nostre fonti Dicono Principe E' fatta Dove si va? Prendete la vostra roba Salpiamo per l'Africa Salpiamo per l'Africa Salpiamo per l'Africa